Anticipazione un post al sole, venerdì 17 gennaio 2020. Marina si mette in testa di una risposta da parte di Valerio Viscardi. La notizia che attende ha a che fare con la vendita delle proprie azioni nei cantieri. Quale sarà il destino dell'azienda? Cosa ne sarà dei dipendenti? La tensione sale e raggiunge punte altissime. Guido, Silvio e Michele nel frattempo non sanno più come arginare la difficile situazione venutasi a creare tra Otello e Renato e optano per diverse soluzioni. Quale metteranno in pratica? Grazie a tutti.